Non è possibile, mi dispiace, non sto chiudendo, non è possibile, è un assembramento questo, non potete stare, dobbiamo stare a casa tutti, è pericoloso, quello che vediamo nelle immagini sta succedendo veramente dagli altri parti, tra poco arriva anche qua, dobbiamo stare a casa, e lo sto chiudendo, infatti vi state costringendo a tutti, andiamo, a casa, a casa, non si può stare così, vi dovete alzare, non vi dispiace, lo sto chiudendo, non si può stare, dai andiamo, dobbiamo stare a casa, non si può uscire, a casa, è una cosa seria, non è un fatto normale che siamo qua tutti nel parco, dobbiamo stare a casa, dai, dobbiamo soffrire qualche giorno e ne usciamo, andiamo, a casa, a casa, a casa. A casa, a casa, mi dispiace, dovete uscire tutti, lo sto facendo chiudere, a casa, andiamo, non si può stare qui, andiamo, dai, andiamo, non si può stare, è un assembramento, state tutti insieme, non è possibile, andiamo, è un fatto serio, non è che stiamo giocando qui, che stiamo chiudendo tutto, andiamo, a casa, a casa, mi dispiace, a casa, per favore, devo essere giocato, andiamo, a casa, a casa, a casa, tutti a casa, a casa, a casa, lo sto chiudendo, a casa, a casa, andiamo, a casa, a casa, mi dispiace, dobbiamo rispettare le regole, tutti a casa, andiamo, mi dispiace, dobbiamo rispettare le regole, queste sono le regole, serve a noi e serve agli altre persone, altrimenti ci ammaleremo tutti, andiamo, adesso lo chiudo, lo chiudo fisicamente, andiamo, sto chiudendo, andiamo, andiamo, a casa, andiamo, 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 andiamo a casa, andiamo, a casa, a casa, soprattutto voi, a casa, andiamo, a casa, a casa, a casa, dobbiamo andare a casa, dobbiamo rispettare le regole, non possiamo stare qui, andiamo, 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 non state tutti insieme, andiamo, sto facendo uscire tutti, anche perché lo sto chiudendo, adesso restate chiusi, andiamo. Andiamo, 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 mi dispiace, dobbiamo rispettare le regole, andiamo, 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 che devo chiudere, andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo, 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 mi dispiace, dobbiamo rispettare le regole, per la nostra salute, andiamo, torneremo a fare una festa dello sport qua dentro, ve lo prometto, ma adesso ce ne dobbiamo, non dovete uscire di casa, dovete stare a casa, tutti a casa, non è uno scherzo, tutti a casa, per favore, tutti a casa, non è un telefilm. Andiamo agli altri cancelli, no?